musica ricordate, deve essere qualcosa di eclatante tra la nostra dichiarazione di guerra che mira, oh qui ci sono i corpi ma perchè e reggito i corpi aspetta si stanno fregando la vista provando le armi no? no ragazzi questa cosa non si può fare perchè le armi a raffica non mi piacciono quindi oh insomma si chiudo bene con varie granate andiamo avanti e tu sul braccio no e di nuovo vabbè grazie ecco quel negozio mobile laggiù arriverà dritto al 25esimo piano ricevuto negozio mobile ci hanno fatto un negozio su un ascensore fatemi capire quindi cambia di piano così i clienti non lo trovano perfetto prendiamo altre munizioni tanto siamo qua ricarichiamoci anche ok mi dimentico sempre che prendere le munizioni equivale anche a ricaricare l'arma sul piedino e voilà e tu amico penso che attraverso il muro non riusciremo a prendere il nemico qua io non lo so dimmi tu te c'è veramente hanno fatto i negozi che cambiano piano che stronzata cioè che uno sta al primo piano poi il giorno dopo lo mettono al terzo piano infatti crollano anche oh ciao si può? si può? eh non dovevo vero? si però mi metti cosa che scende dai fammi scendere eh uno solo? lanciamo granate a più non posso tanto ecco quel negozio mobile laggiù arriverà dritto al 25esimo piano ricevuto andiamo arrivano ammazzali ammazziamo tutti eh l'ho attivato l'ho disattivato perchè non si capisce se si è attivato o disattivato questa schermata penso di no eh ho resi oh tu col pompa ho scappato non si faccia sono stato abbastanza veloce ok siamo pronti per sparare altri 14 colpi sul piede ok non si è girato tu il braccio is the perfect is the perfect andiamo pure laggiù questo oh guarda questo non mi si ferma poi è morto questo fa un fail clamoroso c'è qualcosa l'ho preso incredibile incredibile ma vero ricarichiamo tu sei amico posso fare lo sto non so madonna madonna intanto si gioca a Ryzen of Tomb Raider ah già è uscito non sono molto informato su queste cose eh tu ah ok sei qua quindi eh che sto premendo non lo so tutte animazioni resta sul tetto ti porterà a destinazione saliamo oh si saliamo i rinforzi nrc occupano i livelli inferiori dobbiamo respingerli o la vostra missione fallirà non muoio nico e combatterò con i miei disattivando i negozi mobili sotto questo livello così avrete tutto il tempo di catturare teiner ah mo robot coraggio boy scout ok civili attenti a dove sparate io ce l'ho di dire lei dalla radio non li possiamo stanno isolando il piano studio le opzioni ok studio 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 anche per i miei esami per favore grazie ciao amico e no volevo fare un edit c'è stato troppo lento oh questo non va giù vabbè andrà giù adesso quest'altro e voilà preciso un colpo uno morto mamma no no non mi fa sprecare i colpi così dove sei ahhh perchè sto sto non so si ti sento ti sento non ti preoccupare si sento si sento ah civili no questo le palle no ti prego porca e guada per le palle devo per forza occupaggiare la pistola no da capo no granata nemica coraggio boy scout ora l'ho attivato ora l'ho attivato ehi tu che vuoi e tu che volete fare contro di me arrivano altri nrc stanno isolando il piano studio le opzioni brava studio studio si lo so già l'ho detto ma lo ridico e si ehhh non lo fonde ora l'ho preso ho spiegato 20 i colpi per prenderlo quando potevo magari avvicinare quella roba rossa un bug no arrivano arrivano i motorini qua boom oddio l'ho preso con tutto lo scudo non ci credo eh senti se ti devi però io dovrei eh bravo grazie e oh e prendetevi questa granata assolente aha pam lo sapete ragazzi quando vedo devo anche bruciare ovviamente pam pam camoroso oh si è droppato la granata Mercedes anche se ha già morto ormai altri ah raga troppo easy troppo easy troppo no questi no questi rompono questi rompono i culi e bam mamma no sei sono morto lo sapevo non avevo riparo mi stavano sparando in due eeeh nooo nooo coraggio boy scout dire che civili si attenti si 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 tua sorella sono morto tu sei morto tu sei morto stanno isolando il piano studio le opzioni ok sembra che qualcuno o questo bruci aspetta attenzione a questi cosi no non bruciare pure tu per favore non li prendo mai nella vita eccolo oh ok ooo ok ok eeeh prendi po eeeh non muori perfetto 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 molto calmo molto tranquilla questa parte anche se la sto ripetendo 27 volte perchè sono un idiota il rush eeeh 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 muori c'è un pò per favore mamma eeeh ricarichiamo eeeh andiamo avanti e guadà oh si è scritto un pò di facciamo sto coso facciamo partire i robot per favore facciamo partire gli eventi per favore si può? ok sono partiti sono partiti finchè sono laggiù facciamo solo questi che sparano madonna ma io non manca più colpo stilazzo di robot perfect 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 andato avanti andiamo avanti andiamo un po' di rifornimento oddio ma esce tipo il boss della vita mi servono tanti di quei rifornimenti attraversiamo il punto di irruzione guidaci cane il condotto porta alla stazione di sicurezza basta davvero? non sai darci di meglio? vaffanculo calmati Hendrix non sei tu è la cosa che hai nella testa Hendrix sia un pazzoide devi essere ricoverato da uno psichiatra psichiatra bravo per favore libero la quel condotto da reazione almeno li abbiamo colti di sorpresa madonna cioè immagino quante volte vorrò rifare questa parte vorrei nemici su entrambi i piani dividiamo e infatti difendi cosa devo difendere? sei un'anunità sei un'anunità ma come dire ok attiviamo la eh la visuale è pro ah vuoi un po'? interfacciati con quel terminale ed entrerò nel sistema già già fatto voglio vabbè ma non questo è per cameragani armenia no non sto condito così grazie devo creare una classe con il cecchino il dragon è più carino carino grazie 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 a tutti.